Stando con loro e incontrando delle altre persone che fanno dei percorsi simili in altri posti d'Italia, è venuta un po' fuori l'idea della radio. C'è una rete di associazioni dove noi siamo entrati, che appunto hanno questi rapporti paritari con delle persone straniere in Italia ed è emersa non solo a Foggia, ma anche a Rosarno, a Saluzzo o a Castelvoltuno, la necessità di comunicare. E allora mille volte ci si è detto sì ma come facciamo? Tecnicamente ci sembrava una cosa impossibile perché appunto fare la radio, c'è bisogno dell'antenna, io non la so fare. Però appunto le cose poi si lasciano fare e si sono lasciate fare, la radio si è lasciata fare. Tra l'altro è cominciato tutto in un modo molto carino perché noi avevamo una tenda così alta, davvero così. Per i bambini. È pronto. Grazie. Una tenda alta così per i bambini, c'era un mixer su una cassetta della frutta e un ragazzo che era a cavoacciato a terra con delle cuffie e un mezzo microfono sgangherato ed è partito tutto così. Cioè lui sapeva tre parole di Wolof e di Bambara in francese, ha salutato il mondo e gli altri sono arrivati. C'è stata proprio questa cosa e ognuno metteva la sua musica con il telefono e così è nata la radio, in modo molto libero, molto franco. Può essere un piccolo passo, però il lavoratore che sta isolato nel ghetto per un periodo estivo o per tutto l'anno si accorge che non è da solo.